tornando un po' diciamo alle esperienze successive al duetto con tuo padre a colpa dell'amore tu hai fatto un sacco di duetti, hai duettato praticamente con chiunque a Napoli chiunque può dire di essere un cantante, non può dire di essere un cantante se non ha duettato con Daniele Marciano che poi sono tutti i miei amici questi ragazzi che ho duettato tutti i compaesani che eravamo in amicizia e voleva fare una canzone con me poi sono un ragazzo che è accontentato bravo, non mi faccio problemi sono un ragazzo che vuole dare spazio a tutti ed è bello da parte tua volevo chiederti qualcosa diciamo più approfondito che esperienze sono state questi duetti io te ne elencherò qualcuno ovviamente non potrò menzionare tutti i duetti che hai fatto perché ne hai fatto tantissimi e mi scuso con quelli che non menzionerò però ne ho scelti diciamo quelli un po' più rappresentativi del corso della tua carriera il primo duetto che hai fatto sempre ovviamente escludendo quelli che hai fatto con tuo papà è stato con Lorenzo So Cagnate la canzone è stata la prima esperienza in un duetto a parte quella con tuo padre cosa ti è rimasto impresso di quell'esperienza? bellissimo perché io e Lorenzo siamo un po' troppo amici è proprio con Magnumi Street e quindi è bello stare in sala insieme vivere questa esperienza a due amici è bello mi sono rimasti un sacco di ricordi belli con lui grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori